Buongiornissimo, oggi nuovo video per la nostra serie affitti brevi in 30 giorni. In questa serie stiamo cercando di toccare un po' tutti i punti che possono riguardare l'affitto breve in soli 30 giorni per dare diciamo un'infarinatura generale per tutto quello che riguarda questo business prima di eventualmente accedere ai nostri percorsi di formazione affinché capiate se questo business fa il caso vostro e oggi parliamo, come avrete potuto intuire dal titolo, della terminologia. Spesso mi capita di dare magari per scontato quando parlo così in maniera superficiale qui sul canale YouTube di determinate terminologie ovviamente all'interno del corso abbiamo ore di lezioni su ogni singolo termine, cosa significa e cosa non significa ma ho deciso di riassumere qua in questo video in maniera abbastanza rapida per non farlo durare una vita i termini più comuni che trovate nel mondo degli affitti brevi sia che siate già dentro questo business sia che vogliate approcciarlo da zero e partiamo dal primo termine, forse il più importante in assoluto, ovvero host host in inglese è colui che ospita quindi chiunque possegga un profilo su Airbnb, chiunque abbia una struttura ricettiva chiunque faccia un business dove c'è una persona che viene a dormire nel nostro immobile quindi chiunque che tu abbia una casa, che tu ne abbia 100 è un host e questa terminologia viene utilizzata poi anche dal punto di vista tecnico con piattaforme come Airbnb che identificano appunto la persona che offre il servizio come host e la persona che soggiorna come guest quindi la seconda parola ovviamente è guest che sta manco a spiegarlo ovviamente per ospite quindi guest è chiunque soggiorni nel nostro immobile viene una persona, abbiamo un guest, ovvero un ospite vengono cinque persone, abbiamo cinque guest ovviamente ci sono anche delle differenziazioni c'è il titolare della prenotazione e ci sono gli ospiti io posso aver prenotato ed essere titolare di una prenotazione ma poi i guest potrebbero essere mia madre e mia cugina ad esempio così come in realtà l'host è colui che appunto gestisce l'immobile ma poi il titolare della struttura ricettiva potrebbe essere un'altra persona se ad esempio io Ludovico gestisco l'immobile di Francesco Francesco è il proprietario di casa, è il titolare della struttura ricettiva ma io Ludovico essendo il gestore sono l'host quindi è bene differenziare anche un attimo queste due voci successivamente abbiamo il co-host che non è nient'altro che un host aggiuntivo ci sta che quando una persona ha bisogno di una mano si avvalga di collaboratori, amici, la fidanzata, il fidanzato, il marito, la moglie, il figlio insomma si vuole far aiutare da qualcuno bene quel qualcuno al di là del tipo di relazione che intercorre tra le due persone dal punto di vista tecnico è un co-host quindi è un host secondario che ci aiuta nello svolgimento di qualsiasi tipo di mansione può essere che ci aiuti con la parte online, può essere che ci aiuti con la parte offline può essere che non ci aiuti assolutamente in nulla e io abbia inserito questa persona al solo fine di formarla di fargli capire come funziona questo business che ad esempio è una cosa che noi facciamo all'interno di B&B Academy mi mettiamo come co-host dei nostri studenti al fine di fargli capire come funziona questo business e anche magari al fine di poter mostrare ad un proprietario che già gestisce delle strutture, ha già dei risultati e così riesce a convincerlo più facilmente a farsi dare in gestione il proprio immobile e qui abbiamo visto che cos'è il co-host spesso capita anche che il proprietario di casa venga inserito come host o come co-host al fine di fargli vedere l'andamento del business quindi può essere che io sia host principale il proprietario di casa sia co-host o viceversa anche perché poi alla fine i privilegi sono praticamente medesimi ovvero io da co-host o da host bene o male posso fare le stesse cose posso inviare messaggi, posso rispondere alle richieste di prenotazione posso cancellare delle prenotazioni eccetera 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 parlando sempre di prenotazioni arriviamo poi al check-in che è la fase in cui l'ospite prende possesso delle chiavi dell'immobile e presumibilmente entra anche nell'immobile quindi quello è il check-in anche in albergo quando si arriva si fa il check-in ovvero diamo i nostri documenti e l'albergatore, la reception ci dà le nostre chiavi e quello è il momento del check-in ovviamente poi esistono delle declinazioni del check-in infatti abbiamo il late check-in ovvero un check-in tardivo mettiamo caso che noi consegniamo le chiavi di persona e scriviamo su Airbnb che noi le chiavi le consegniamo sino alle ore 20 se una persona ci chiede di consegnare le chiavi alle ore 21 quello è un late check-in che ad esempio molti host richiedono come extra quindi ok dopo le 20 si tratta di late check-in e voglio 30 euro per questo quindi in questo caso abbiamo un check-in tardivo ovvero un late check-in oppure abbiamo il self check-in che come dice la parola stessa presuppone che ci sia un servizio self service quindi in completa autonomia io posso svolgere il check-in e quindi posso arrivare alle 6 di pomeriggio o alle 4 del mattino a me host non cambia assolutamente niente perché tanto il check-in è automatizzato ed essendo il check-in automatizzato chiaramente io non devo preoccuparmi di a che ora arriva l'ospite o di essere lì a consegnare le chiavi quindi abbiamo visto il check-in il late check-in e il self check-in esiste poi seppur in come dire una probabilità minore l'early check-in ovvero un check-in anticipato quindi se di norma i miei ospiti possono entrare nel mio B&B alle 3 di pomeriggio capita che qualcuno ti chieda un early check-in quindi un check-in anticipato poi il rifiutare non sei obbligato a farlo in che casistiche di norma si accetta se magari l'immobile era già libero perché la notte prima l'immobile è stato vuoto o se l'impresa di pulizie ha già finito di pulire in quel caso la casa è vuota a quel punto io ti concedo volentieri un early check-in cosa che spesso viene molto apprezzata e questo poi chiaramente si converte in una review positiva che cos'è una review? è quello che comunemente è chiamato anche recensione ovvero una valutazione che l'ospite rilascia a me, host sul come è stato il soggiorno, la comunicazione, eccetera su Airbnb le valutazioni vanno da 1 a 5 stelle quindi si parla di stelle si parla comunque di un valore numerico che va da 1 a 5 su Booking invece si parla di valutazioni numeriche che vanno da 1 a 10 diciamo che su Airbnb l'unica valutazione positiva secondo me è il 5 stelle 4 stelle accettabile 3, 2 o 1 è una valutazione pessima mentre su Booking secondo me la valutazione positiva parte dall'8 in su quindi 8, 9, 10 sono valutazioni positive 7 è sufficiente dal 6 compreso in giù sono valutazioni secondo me negative ovviamente dentro il nostro percorso di formazione BNB Academy del quale trovate maggiori informazioni qua in descrizione vi spieghiamo come gestire le recensioni e talvolta anche come rimuovere queste recensioni se sono negative e potenzialmente dannose oltre a questo Airbnb è l'unica piattaforma che permette anche di valutare noi l'ospite quindi di norma uno si immagina che è solo l'ospite che recensisce la struttura no in questo caso può anche essere la struttura o l'host che recensisce l'ospite così che se un ospite ha recato dei danni altri host in futuro saranno ben consapevoli del potenziale rischio dell'ospitare questa persona e di conseguenza possiamo anche decidere di non ospitare ospiti che abbiano recensioni negative quindi Airbnb è l'unica piattaforma che permette di recensire anche l'ospite come quando noi andiamo al ristorante diciamo che il ristorante è stato molto buono come se il ristorante potesse dire invece il commensale non si è comportato bene quindi è una cosa che secondo me gioca molto a favore di Airbnb tornando poi al momento in cui l'ospite entra nel nostro immobile al termine del soggiorno abbiamo il check out che non è nient'altro che la fuoriuscita dell'ospite da parte dell'immobile in maniera definitiva e la riconsegna delle chiavi che può avvenire ovviamente di persona o anche qui sfruttando i vari dispositivi automatizzati come Masterlock o serratura smart di cui parleremo in un altro video quindi iscriviti al canale per non perderti questi altri video importantissimi il check out può avvenire agli orari concordati di solito entro le 10-11 del mattino o può esserci concordandolo con l'host un late check out ovvero un check out tardivo che anche qui di norma è su richiesta si può chiedere un sovrapprezzo e si può concedere in base a determinate condizioni se ad esempio io so che poi domani l'immobile è vuoto e quindi l'impresa di pulizie può venire anche l'indomani offro un late check out gratuito o a pagamento se so che l'impresa di pulizie verrà a pulire la casa più tardi perché è in ritardo bene posso offrire un late check out insomma ci sono varie eventualità tali per cui io posso decidere di offrire un late check out gratuito o a pagamento passiamo adesso per variare un po' a un termine molto specifico e molto tecnico channel manager channel manager non è nient'altro che un software che permette di sincronizzare le date di uno immobile su più piattaforme cosa significa se io prendo una casa in piazza del Duomo a Milano e la pubblico su Airbnb e la pubblico su Booking ovviamente questa casa è prenotabile al massimo una volta al giorno cioè io non posso per il 31 dicembre avere più prenotazioni perché la casa è una e gli ospiti sarebbero molteplici quindi che cosa faccio io? pubblico la casa su più piattaforme ma mi devo assicurare che se uno prenota un determinato giorno ad esempio il 31 dicembre poi questa data venga chiusa su tutte le altre piattaforme su cui sono online ed ecco che qui entra in gioco il channel manager quindi un software che si occupa di chiudere le date se prenoto su Booking mi chiude quelle date su Airbnb se prenoto su Airbnb mi chiude quelle date su Booking oltre a ciò negli ultimi anni i channel manager si sono comunque evoluti e hanno iniziato ad offrire tutta una serie di funzionalità extra per automatizzare magari determinati messaggi per aiutare l'host nella fase di check-in o di check-out e chi più ne ha più ne metta dentro Airbnb Academy parliamo di tutti i migliori channel manager da utilizzare per questo business che sono tantissimi ognuno con i propri pro e i propri contro adesso parliamo di un inglesismo che spesso viene utilizzato ed è soluzione win-win molti erroneamente la chiamano win-to-win no è win-win ovvero win-win win in inglese significa vittoria una soluzione win-win è quando entrambi gli interlocutori si sono portati a casa una situazione vantaggiosa se ad esempio io vado ad un concessionario d'auto e come dire negozio il prezzo e io riesco ad ottenere uno sconto di 2000 euro io sicuramente sono in una situazione win e suppongo anche il concessionario è contento perché ha venduto un'auto e quindi è una situazione win-win se invece io compro un'auto e il concessionario mi dà una fregatura non è una soluzione win-win perché magari ha vinto lui che mi ha venduto l'auto ma io non ho vinto un bel niente perché mi sono preso una fregatura questa non è una situazione win-win in ambito affitto breve di norma utilizziamo questa terminologia non tanto nella fase di rapporto con l'ospite quindi non tanto quando ospitiamo ma più quando andiamo a cercare di acquisire degli immobili quindi se io riesco ad ottenere un accordo tale per cui io ho fatto un buon affare e anche il proprietario di casa ha fatto un buon affare quella è una soluzione win-win ed è importante secondo me essere consapevoli che la negoziazione non deve essere un io vinco e tu perdi ma deve essere invece un incontro tra due parti che devono essere entrambe soddisfatte anche perché se il proprietario è soddisfatto dell'accordo che ha ottenuto con voi che questo sia in sublocazione o che questo sia in property management sarà ben contento di continuare a fare affari con voi magari vi proporrà altre case magari non disdirrà mai il contratto mentre se invece fregate il proprietario di casa e per assurdo se ne rende conto dopo sei mesi lui non vedrà l'ora di disdire quel contratto e sicuramente vi farà una pessima pubblicità quindi è importante creare delle soluzioni win-win tra voi e i proprietari di casa torniamo a parlare per un attimo invece di prenotazioni e parliamo dei termini di cancellazione ovviamente quando un qualcuno prenota ha la facoltà di cancellare la sua prenotazione ma attenzione perché siamo noi a scegliere con che termini quella persona potrà cancellare non lo scegliamo dopo che lui invia la richiesta ma lo scegliamo prima ovvero in fase di realizzazione dell'annuncio possiamo scegliere dei termini di cancellazione che ovviamente sono modificabili andando in avanti col tempo non è che se scegliete dei termini di cancellazione flessibili questi rimarranno flessibili per il resto della vita avete la facoltà di modificarli ogni qual volta volete chiaramente prima di ottenere una prenotazione se uno ha prenotato con dei termini di cancellazione flessibili anche se io li modifico quella prenotazione rimarrà con termini di cancellazione flessibili le piattaforme hanno vari termini di cancellazioni Airbnb ne ha di un tipo Booking ne ha di un altro in generale comunque esistono quelle flessibili rigide, semirigide e la differenza è semplicemente che ad esempio tu puoi cancellare fino ad una settimana prima di arrivare puoi cancellare sino al giorno prima di arrivare e sei tu a scegliere appunto i termini di cancellazione chiaramente più sono rigidi i termini di cancellazione più un potenziale ospite potrebbe avere diciamo ripensamenti sul prenotare il tuo immobile più sono flessibili e più sarà probabile che tu otterrai prenotazioni il mio consiglio è quello di se lavori in una grande città dove c'è un continuo via vai di persone di avere dei termini di cancellazione più flessibili se invece lavori con immobili magari in località fortemente turistiche stagionali come può essere un immobile in spiaggia in Sardegna o in Sicilia o in Toscana imposta dei termini di cancellazione più rigidi perché ovviamente ci sta che se uno cancella due giorni prima di arrivare dove lo trovi uno che ti prenota tutto agosto in soli due giorni quindi ovviamente bisogna fare dei ragionamenti diversi in base alla tipologia di immobile dentro Airbnb Academy inutile dirvi che analizziamo per filo e per segno le migliori strategie a livello di termini di cancellazione e tanto altro ancora passiamo adesso ad una terminologia che è stata coniata da Airbnb ed è esclusiva di questa piattaforma ed è la parola Superhost non è nient'altro che appunto un riconoscimento che dà Airbnb solo ed esclusivamente ai membri che si sono contraddistinti all'interno della propria community lo status di Superhost viene rilasciato ogni 4 mesi e per essere Superhost devi avere appunto una serie di requisiti non devi aver cancellato tante prenotazioni negli ultimi 4 mesi devi aver ottenuto una media di recensioni superiore a 4.8 su 5 non devi avere praticamente la fedina penale sporca all'interno di Airbnb e aver ottenuto almeno 10 prenotazioni o notti prenotate e devi comunque avere anche un buon quantitativo di prenotazioni ottenute negli ultimi 4 mesi se soddisfi tutti i requisiti che per comodità ti lascio qua in sovraimpressione avrai lo status di Superhost se sarai Superhost per un anno consecutivo Airbnb ti regalerà anche un buono sconto da 100 euro che potrai utilizzare sulla piattaforma per prenotare le tue vacanze questo per ogni anno di fila che rimani Superhost ci sono host all'interno di Airbnb Academy che puntualmente ogni anno si fanno 100 euro di buono sconto direttamente su Airbnb che poi utilizzano appunto per le proprie vacanze essere Superhost ovviamente è un riconoscimento che ti aiuta ad ottenere più prenotazioni puoi alzare magari un po' i prezzi e hai ovviamente anche assistenza prioritaria ma se per caso non siete riusciti ad ottenere lo status di Superhost o siete dentro questo business da molto poco tempo non preoccupatevi perché si riesce a lavorare benissimo anche senza questo riconoscimento infatti devo essere onesto con voi quando si hanno tantissime proprietà in gestione riuscire a mantenere su ad esempio oltre 100 proprietà una media di 4.8 è veramente difficile basta una recensione negativa la media si abbassa magari a 4.7 e capite bene che diventa praticamente impossibile mantenere lo status di Superhost quando si hanno tante 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 case quindi ad esempio io e tanti host di Bambi Academy che posseggono dei portfoli importantissimi a livello di proprietà non hanno lo status di Superhost eppure riusciamo a fatturare cifre molto molto importanti quindi capite che è un riconoscimento utile ma non indispensabile andando avanti troviamo le Cleaning Fee comunemente chiamate anche spese di pulizia che non sono nient'altro che l'importo che l'ospite paga quando soggiorna nella nostra struttura a titolo di rimborso spese per le pulizie ebbene sì non è quanto noi paghiamo all'impresa di pulizia ma è quanto l'ospite paga a noi perché queste due voci possono differire ovvero l'ospite può pagare 50 euro come costo di pulizia e poi magari le pulizie me le faccio da me e quindi in realtà quei 50 euro sono guadagno o semplicemente l'ospite può pagare 50 euro di pulizie e io in realtà ne spendo 35 o ancora ho una società di affitti brevi le imprese di pulizie non le utilizzo perché io ho assunto direttamente delle persone per fare le pulizie quindi io pago sparo a caso 1000 euro al mese ma prendo 50 euro da ogni prenotazione e alla fine arrivo a lucrare anche sulle pulizie quindi può essere che semplicemente vado a pareggio quello che spendo per le pulizie lo recupero pagato dall'ospite oppure posso addirittura andare a guadagnare grazie alle spese di pulizia in generale la maggior parte degli host comunque va semplicemente a pareggio e quindi sono molto contento di spiegarvi che in realtà le pulizie non sono un vero e proprio costo all'interno di questo business e invece poi c'è anche chi soprattutto chi è più strutturato ci va a guadagnare sulle spese di pulizia spese di pulizia che tra l'altro se opportunamente fatturate sono uno dei pochissimi costi che si possono detrarre anche come persona fisica senza avere la partita IVA ciò significa che il proprietario può non pagare le tasse su tutto quello che ha speso a livello di pulizie se queste pulizie sono state opportunamente fatturate andando avanti troviamo la dicitura prezzi smart che anche questa è una tecnologia diciamo creata da Airbnb e che esiste solo sulla propria piattaforma io sconsiglio di utilizzarli ma per conoscenza è importante sapere che cosa sono i prezzi smart sono appunto dei prezzi che vengono impostati automaticamente dall'algoritmo di Airbnb e una volta impostato un range ad esempio voi dite voglio minimo 80 euro e massimo 200 euro Airbnb abbassa e alza questi prezzi in completa autonomia il problema è che Airbnb e il suo algoritmo non sanno come è composto il nostro immobile cioè magari non sanno che abbiamo un affresco sul tetto o non sanno che abbiamo una vista meravigliosa o quest'algoritmo non si rende conto che abbiamo magari una vasca idromassaggio e quindi non tiene conto di tantissimi fattori che secondo me sono fondamentali invece per livellare il prezzo quindi è importante che voi sappiate cosa sono i prezzi smart ma io personalmente sconsiglio di utilizzarli il terz'ultimo termine che andremo ad analizzare quest'oggi è air cover chiamata in passato anche garanzia host questa come potrete immaginare è un'assicurazione che Airbnb dà gratuitamente a tutti i propri host e guest e ciò permette qualora ci sia un danno accidentale o un problema con un ospite di usufruire di questa garanzia appunto che copre sino a 3 milioni di euro sia come danni accidentali sia come responsabilità civile ciò significa che se ad esempio un ospite mi rompe il televisore e decide di non pagare ci penserà Airbnb il bello di questa garanzia di questa assicurazione è che non c'è bisogno di chiamare un perito ma basta mandare una foto del danno e un preventivo per la riparazione o la sostituzione del bene e Airbnb nel giro di qualche giorno ci accrediterà l'importo direttamente sul nostro conto questa è un'esclusiva di Airbnb Booking non ha questo genere di assicurazione ma ha semplicemente un'assicurazione sulla responsabilità civile ma all'interno di Airbnb Academy vi spieghiamo come tutelarvi al 100% anche dagli ospiti di Booking.com il penultimo termine è la tassa di soggiorno come potrete capire è una tassa che alcuni comuni impongono per ogni ospite che soggiorna quindi ad esempio in alcune città sono 3 euro a persona per ogni notte in cui soggiorna l'ospite nella nostra struttura ricettiva ma tanti comuni soprattutto i più piccoli non hanno la tassa di soggiorno il mio consiglio è di informarvi nel vostro comune per sapere se c'è da riscuotere questa tassa di soggiorno nel peggiore dei casi dovrete riscuoterla e pagarla poi ogni fine mese e ogni trimestre in base alle regole del vostro comune per appunto ogni ospite che ha soggiornato nella vostra struttura in alcune città come ad esempio a Milano e Roma è Airbnb che riscuote direttamente questa tassa di soggiorno al posto vostro e la versa direttamente al comune quindi è letteralmente un importo che noi vediamo nelle prenotazioni ma che non riceviamo quindi non dobbiamo riscuoterlo e non dobbiamo di conseguenza neanche elargirlo o pagarlo infine l'ultimo termine è CIN barra CIR perché CIR sta per codice identificativo regionale ed era il termine che in passato veniva utilizzato per identificare questo codice univoco che va richiesto quando si pubblica una struttura sulle piattaforme come Airbnb e Booking da qualche tempo si chiama invece CIN ovvero codice identificativo nazionale e anche qui il funzionamento è il medesimo si tratta di un codice che va richiesto alle autorità preposte al fine di identificare il nostro immobile di dimostrare che abbiamo ottenuto tutte le relative autorizzazioni per pubblicare i nostri immobili online e quindi una sorta di sigillo di garanzia è come andare da un estetista e chiedergli il numero di partita IVA se ha il numero di partita IVA tecnicamente è un'attività dichiarata se non ha il numero di partita IVA probabilmente sta svolgendo questa attività in maniera abusiva è come la licenza per il tassista insomma è un codice che dà tranquillità a chi soggiorna nel nostro immobile e dimostra alle autorità preposte che abbiamo fatto tutto quanto in regola bene fammi sapere qua nei commenti se ci sono altri termini che vuoi che analizzi in prossimi video io ti ricordo che abbiamo un sacco di contenuti gratuiti che puoi trovare qua nella didascalia del video compresa una consulenza gratuita con il nostro team che può aiutarti a capire di più sul mondo degli affitti brevi e ricordati anche di iscriverti al canale per non perderti altri video super interessanti sul mondo degli affitti brevi, imprenditoria, lifestyle e altro ancora a presto e buona continuazione